Maurizio Memè, vice sindaco. Davanti a telecamere e fotografi, il nuovo sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, propone la seconda poltrona del comune al già nominato assessore ai lavori pubblici eletto con la lista civica Vivi Senigallia. Il sindaco, con a fianco Mario Cavallari, la sua ombra in campagna elettorale, annuncia che lo stesso sarà il portavoce del primo cittadino e capo di gabinetto. La sua sarà una prestazione gratuita, ha ribadito Mangialardi. Gennaro Campanile, assessore PD uscente, avrà la delega città sostenibile che comprende ambiente, rifiuti e trasporti. Campanile si occuperà anche di sport, politiche giovanili e frazioni. Stefano Schiavoni del PD è l'assessore alla cultura e pubblica istruzione. Simone Ceresoni di Città Futura è l'assessore all'urbanistica. Massimo Colocci, tecnico esterno, si occuperà di promozione turistica e manifestazioni. Francesca Michela Paci, PD, avversaria di Mangialardi alle primarie, sarà l'assessore al bilancio. L'altra donna in giunta, sempre del Partito Democratico, è Paola Curzi, assessore alle attività economiche, pari opportunità e partecipazione democratica. Fabrizio Volpini, ex segretario del PD comunale, si occuperà di servizi alla persona edilizia e residenziale pubblica. Una giunta troppo monocolore? Sì, risponde Mangialardi, il colore della competenza. Non è una giunta fatta con il bilancino, ma ho guardato la città, ho guardato le esigenze dei cittadini in un momento così particolare, ho cercato di attribuire le deleghe in funzione delle competenze e delle capacità di ognuno. Quindi penso di aver tirato fuori una squadra per la quale io sono veramente soddisfatto.